L'antigone di Sofocle, la grandezza di una donna che nei teatri di duemila anni fa ha superato le norme imposte per leggi non scritte che stanno dentro il cuore, ha aperto con le voci degli studenti di quarta M del liceo classico Medi di Villafranca la tavola rotonda promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia in loggia Fra Giocondo a Verona nella giornata internazionale della donna. Allora, quello che noi abbiamo trovato veramente ammirevole in Antigone è proprio il coraggio che ha dimostrato in un'epoca in cui appunto difendere le proprie opinioni, soprattutto da donna, era praticamente impossibile. Antigone è riuscita a sfruttare il tempo che ha avuto a disposizione per lasciare qualcosa che fosse al di là della sua esistenza. La giornata della donna, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Verona ha deciso di celebrarla affrontando il tema della legalità, nel senso di individuare o discutere di qual è il ruolo della donna nella promozione di una cultura di etica e legalità, a partire dal suo ruolo di educatrice. È evidente che fin dalla nascita la donna è chiamata a dire ai propri figli cosa è giusto e cosa non è giusto. Quindi questa sua situazione, diciamo, naturale, forse la porta ad avere un approccio diverso con i problemi del rispetto della legalità e del diritto. All'incontro hanno partecipato quattro donne ai vertici istituzionali a Verona. Angela Barbaglio, procuratore della Repubblica, Ivana Petricca, questore, Maria Grazia Bregoli, direttore del carcere di Montorio, Antonella Magaraggia, presidente del Tribunale. Al centro, il ruolo delle donne nella promozione della cultura, dell'etica e della legalità. Ma io credo che non esista una declinazione al femminile della promozione della legalità. La promozione della legalità aspetta a tutti, a tutti i cittadini, uomini e donne. Io credo però che le donne, nella lotta che hanno fatto per la loro emancipazione, siano state testimonianza della legalità. Perché legalità vuol dire uguaglianza. E avendo lottato le donne per l'uguaglianza e la parità, sono state testimonianza vivente dell'etica e della legalità stessa.